Un altro americano Troy, tallonato sino allo spasimo dall'australiano Hayes, ha battuto il record mondiale nei 200 metri a frafalla nel tempo incredibile di due primi 12 secondi e 8 decimi. I nuotatori hanno gareggiato fra l'indicibile entusiasmo di almeno 15.000 spettatori. Il conto tra americani e australiani nel luoto è sempre aperto, forse non si chiuderà mai. In corsa superando se stesso anche l'italiano Dennerlein, nuovo recordman europeo e nazionale in 2 minuti e 16 secondi netti, ma nessuno poteva resistere al ritmo infernale imposto da Troy. L'altro americano Gilanders, terzo arrivato, boccheggiava. Al nostro Dennerlein, eroe senza medaglia, un futuro pieno di promesse.